E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati software side crypto, io sono Emiliano e anche oggi troppo il nostro consueto morning with crypto, l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo nella notte, andremo ad approfondire il movimento di bitcoin della giornata di ieri, soprattutto di ieri sera, che si è completato positivamente nella mattinata di oggi e andremo a capire di che cosa stiamo parlando e quali possono essere i target a questo punto. È un movimento salutare o meno, lo capiremo, ma come sempre ragazzi, anzi meglio, come più che come sempre, oggi voglio andare un pochino più deep sulle chart, quindi spero vi faccia piacere, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Detto ciò, non perdiamo altro tempo e partiamo. Partiamo dalla prima visione, quella che ormai ci portiamo avanti ogni mattina perché capiremo tra poco che a mio parere è estremamente importante. Allora, facciamo così, così la vedete sicuramente tutti. Ok, perfetto. Questo grafico qui è uno schemino di sintesi di quelli che sono i flow, che siamo noi già abituati a vedere, dei vari ETF spot. E anche nella giornata di ieri abbiamo un dato importante, cioè abbiamo la conferma del rallentamento in maniera abbastanza marcata degli scarichi di GBTC. Ricordiamoci che nella prima settimana, prime due settimane, cioè dall'11 più o meno fino al 31, più di due settimane, abbiamo avuto una decrescita, un outflow da GBTC di pressione di vendita di 500, 400, 400, 200 bitcoin, scusate, milioni di dollari in bitcoin al giorno. Stiamo rallentando in maniera abbastanza considerevole. Dal 5 febbraio siamo andati a 105, 108, scusate, milioni venduti, 73 e siamo stati a 81 nella giornata di ieri. Mentre i nostri, soprattutto, BlackRock e Fidelity, stanno comunque continuando su una sorta anche loro di rallentamento, ma non poi così tanto marcato perché o uno o l'altro tengono alta un po' la barra. Infatti, nella giornata di ieri abbiamo avuto un total inflow di 145 milioni, cosa che chiaramente sta andando a essere principalmente, a mio parere, un po' un martello, ok? È un martello questa cosa che continua a battere. E se dovesse continuare anche ad avere un risultato positivo, ma anche non servono risultati 145 milioni al giorno, ma magari anche 70-80 milioni di inflow al giorno continui, voi capite che nel lungo termine, cioè nel senso non da oggi a domani, che il prezzo comunque ricordiamo ce l'ho, è manipolato dal mercato futures. Cioè, il mercato futures ha una dominanza, ha un open interest più elevato, quindi ovviamente il mercato, appunto, con le leve finanziarie agisce in maniera più preponderante, ma tutto questo effetto spot, ragazzi, non lo vedete oggi, lo vedete nel tempo. E sicuramente è uno dei tasselli che sta permettendo a Bitcoin comunque di andare ad avere una positività nel prezzo in questa fase. Ma, appunto, so che è difficile, magari per molti, andare un pochettino, andare oltre questo concetto di oggi per oggi. Davvero, questo lo dico in generale, non è riferito a chi mi segue in questi video qua. Voi probabilmente siete già avanti, nel senso che cercate di filtrare tutte queste informazioni. Però essere molto parziali e non imparziali in questo settore, andando a essere, a non ragionare con i dati, ma solamente per sentiment, davvero si rischia di fare danni e alla fine è sempre, ragazzi, al 90%, è sempre il contrario di quello che sentite su Twitter. Quindi ormai erano tutti berici, si doveva andare a 30.000, a 25.000 e poi si ritorna a 44.500. Quindi state attenti sempre al rumore di fondo. Ora vi faccio un po' di rumore bullish, ma lo sapete, a me piace solamente per darvi un po' di fomo, un po' così, comunque che prendete sempre in maniera di felicità. Non sono consigli trading finanziari, non faccio trading usando queste cose. Però sono sempre delle somiglianze che appunto cercano di far vedere dove in questo caso, dove ci troviamo adesso, veniamo fuori da una sorta di flag che poi va a fare questi due massimi e si entra nel territorio halving. Sulla scorso ciclo ci ricordiamo questo crash, ma a mio parere è un... Scusatemi, questo è il ciclo 2014-2017. C'è stato questo crash, ma anche qui. Vuoi che lo ciclo precedente c'era, appunto, il discorso Covid e quindi di base è stato un po' un black swan a tutti gli effetti. Non ha un'attendibilità. Vuoi che nel 2014-2017 era un mercato estremamente immaturo? Credo che... no, anzi credo, sono sicuro. Non c'erano neanche i futures, quindi voi capite che era un mercato veramente di pochi, quindi parliamo di prezzi a 4-500 dollari, me lo ricordo molto bene, ma non era sicuramente il mercato che adesso, non c'erano i servizi che ci sono adesso, era ancora molto complesso andare già a registrarsi su un exchange, fatevi voi, appunto, due domande a riguardo. Ma in ogni caso, possono esserci delle similitudini e una crescita esplosiva? Ditemelo voi nei commenti, noi andiamo a vedere le chart tra pochissimo. Prima, però, voglio darvi, a parte questa foto o scena, ma questa promo esclusiva che BitGate mi ha donato per voi di, appunto, 100 dollari gratis, accreditati su un deposito di 100. Vale per i nuovi utenti dal 7 al 29 febbraio, quindi se volete approfittatene. È una promo dedicata solamente ai primi 50 utenti, perché c'è un monte premi di, appunto, 5-000 dollari. Come fare? Semplicemente vi registrate da questo link che trovate qua sotto, ve lo lascio, fate il case e poi depositate 100 dollari per ricevere 100 dollari. Di cosa si tratta? Si tratta di trading bonus, quindi tutti eventuali profitti che fate sono vostri, chiaramente non potete ritirarli, ma è ovvio che se potete utilizzarli anche magari in leva, vi fate un vostro trade, se vi va bene, chiaramente sono tutti free money gratis, perché li utilizzate attraverso il bonus. Il bonus viene erogato entro 7 giorni e basta. L'importante è che il primo deposito lo fate entro 72 ore dalla registrazione. Lo ripeto, questa campagna, appunto, lo scrivo anche qua, riservata ai nostri link, quindi non ai link che trovate in giro, quindi mi raccomando, se lo volete fare, fatelo da qua. Approfittatene perché, a mio parere, sono promo molto interessanti, proprio per fare anche trading in maniera gratuita, e quindi mi piace condividervele. Andiamo a vedere, non Dimension, ci arriviamo dopo, ma i nostri gainers e losers di CoinMarketCap, tra i gainers troviamo BitTorrent, che fa un più 41, Gaspa, che finalmente risorge un po' dalle ceneri del mortuorio che gli stava girando attorno in questo periodo, questo mese, due forse. Un più 18, Dimension, un più 16, Manta, un più 14, i nomi di cui abbiamo già parlato, anche Manta, ieri vi facevo proprio vedere il grafico, a mio parere, poteva esserci ottime zone di buy. Celeste, un più 11, Ordi, un più 10, Stax, un più 10, 6, altro nome di cui parlavamo, un più 10, Edra, un più 8, insomma, via discorrendo. Insomma, tra i losers, in realtà non c'è granché da dire, Pendol, un meno 5, Monero, un meno 4, un po' continua, un po' sull'onda del delisting di Binance, Wimix, un meno 1, PIF, un meno 0,7, ma a parte appunto Monero, diciamo che gli altri sono nomi che avete sul settimanale, sono messi bene, anche USDC e DAI mi sono messi bene, sto scherzando, Interno Stable Coin, ma andando a vedere quello che sta accadendo a Bitcoin, lo vedete molto bene. Cioè, io penso che più che, adesso ne parliamo, ma più che andarvi a dare una visione, io ci tengo a farvi ragionare su qua. Voi vi prego di andare su YouTube, dove volete voi, e guardare che cosa accadeva il 23 di gennaio, il 24 di gennaio, perché qua, ok, cioè non serve fare gli screenshot, cioè, nel senso, era tutto bearish, e io invece qui sono bullish, ma perché sono bullish? Perché, uno, siamo su una zona di liquidità, lo vedete bene, questa è una zona per un supporto molto importante, abbiamo comunque tante possibilità, tante narrative in ballo, abbiamo una grande, a mio parere, FOMO che potrà crearsi su tutto il discorso institutional riguardo, appunto, BlackRock e le sue ads. Cioè, nel senso, a rischio rendimento, questo non significa che, ah, siamo bravi, abbiamo preso il bottom, dovevamo andare su, no, potremmo anche scendere ancora, ma sicuramente qui non riesco ad essere bearish, riesco ad essere bearish quando andiamo in Blue Sky Breakout e iniziamo un attimino a circolare, lì inizio ad essere bearish, in questo momento io personalmente no. Ora, come qua non ero bearish, qui vi metto un attimino di alarm, nel senso, la crescita c'è stata, ieri abbiamo fatto un ottimo più 3%, siamo però su un livello di resistenza importante, questa zona qua è un range che ci portiamo avanti, ragazzi, da dicembre, ok? Da quasi tre mesi, e quindi stiamo un po' cauti in questa zona qua a fare long, sicuramente potremmo anche andare, se brecchiamo i 44,5 con volumi, però servono volumi, a ripescarci magari anche i 46, 47, tutta questa zona qua, che diventa ancora più importante. Ma perché diventa ancora più importante? Perché me lo sto inventando, perché lo dico io? No, perché è l'ultima zona, ragazzi, di azione, tra questa e poi c'è un 52, dove i bears hanno controllo, nel senso, dove dicono, se brecco questa, qui ragazzi, inizia la FOMO, io ve lo dico, cioè a 52, 53, parte la FOMO, FOMO totale, perché iniziamo a vedere i 60, 65, volte mai, rotazioni di capitali, quindi non voglio mettere il FOMO io dicendo di queste cose, però se arriviamo in queste zone, preparatevi a onboarding molto probabilmente di nuovi capitali, e quindi di conseguenza fate voi il vostro gioco, come si suol dire, ok? Però è importante capire dove ci si trova e perché ci si trova qui, altrimenti non si capisce nulla. Basta, Ethereum è stato un altro nome che ha performato bene, ha avuto un buon bounce, lo vedete, ma volevo concentrarmi principalmente su un'altra tipologia di lezione, quella che vediamo su tanti nomi che comunque hanno trazione e che possono giocarsi dei buoni bounce. Qui, in questa zona di liquidità, che avevo già segnalato 3-4 giorni fa, e comunque anche ieri ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un ottimo bounce, proprio perché su un recupero di Bitcoin e di Alcoin, già mettersi in tasca un 16%, magari utilizzando anche la leva, se andate e siete dei trader, se utilizzate leva, chiaramente capite che si tratta di ottimi numeri in relazione magari a un rischio meno, più controllato perché veniamo da una correzione di un 35%. Può continuare a scendere, sì, ma sicuramente intervenisca un rendimento interessante. Stessa cosa vale per 6, attenzione perché è un nome che, se conferma questa zona qua, può continuare e può anche tornare tranquillamente su 70-72, e anche lì si tratta di percentuali interessanti. Tutte queste cose, io ne ho già parlate anche nel gruppo Strategies, che è totalmente gratuito, trovate qua sotto, chiaramente è dedicato ai traders, quindi non è dedicato a tutti, altrimenti sono i gruppi aperti dove c'è tutta la condivisione, però se siete traders potete utilizzarlo, trovate qua sotto ovviamente. Tutti i modi per entrare. Sto andando lunghissimo anche oggi, ma l'ultima cosa importante, a mio parere, è l'open interest. Open interest che sta iniziando a salire, quindi attenzione sempre ai movimenti che possono essere abbastanza importanti, più che altro portarci volatilità, ok? Occhio a questa roba qua. Detto ciò ragazzi, mi fermo, se sarà necessità ovviamente di un altro update, arriverò a voi con un altro update, quindi vi invito a seguirmi, a rimanere sul pezzo, lasciatemi un like se vi fa piacere dire questi contenuti ogni giorno e noi ci aggiungiamo prestissimo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!